Se guardiamo l'attuale situazione italiana, il problema delle disuguaglianze di possibilità direi è molto evidente, anche rispetto agli altri paesi. Abbiamo un ascensore sociale che funziona poco, cioè chi nasce povero in generale rimane povero. Non è sempre così, sappiamo che ci sono tantissime eccezioni, però insomma l'ascensore sociale non funziona abbastanza nel nostro paese, non è mai funzionato bene nel nostro paese, a dire la verità non funziona più tanto bene neanche in paesi come gli Stati Uniti che dovrebbero essere il paese delle opportunità. Quello è evidente. Poi sappiamo benissimo che c'è un gravissimo problema di disparità di opportunità tra maschi e femmini, il problema del genere è enorme, visivamente lo si vede, insomma se si va in un incontro in cui contro il settore finanziario, per esempio il settore economico, normalmente sono quasi tutti uomini tranne un paio di donne su 40-50 persone. Un problema molto serio, anche lì è un problema di opportunità perché spesso le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini, per esempio perché si devono occupare prevalentemente di chi ha bisogno di assistenza, i bambini piccoli e spesso anche gli anziani. Poi c'è un'altra terza area fondamentale a lottare le disparità di nascita in termini di reddito o quelle di genere che riguarda le disparità territoriali. Abbiamo differenze di opportunità enormi tra chi nasce al sud, al centro e al nord Italia e anche questo deve essere corretto. L'Italia è un paese che bisogna di crescere più rapidamente di quanto abbia fatto in passato. Ovviamente crescere troppo non fa bene, dobbiamo tutelare anche il pianeta, però negli ultimi vent'anni, a parte il Covid, a parte l'anno del Covid, abbiamo avuto un tasso di crescita del nostro reddito uguale a zero, quindi non si può proprio parlare di crescita. Cosa serve per crescere? Servono investimenti, investimenti in capitale fisico, le cose, investimenti che si vedono e anche quelli che non si vedono, ma che comunque sono investimenti infrastrutturali, per esempio digitali, e poi servono investimenti in capitale umano. Investimenti si fanno pubblici, si fanno per decisioni, bisogna stanziare soldi, bisogna poi essere capace di farli. Investimenti privati bisogna creare un ambiente in cui le imprese hanno voglia di investire in Italia piuttosto che andare all'estero, il che in generale vuol dire meno burocrazia, semplificazione, maggiore disponibilità anche di infrastrutture, di cui appunto ho già fatto riferimento agli investimenti pubblici, una giustizia civile che funziona di più, se ci riusciamo anche a avere tasse più basse, però bisogna trovare le risorse. E poi c'è il grande campo del capitale umano, cioè la pubblica istruzione. La pubblica istruzione è fondamentale per un Paese per crescere alla forma di spesa pubblica che è più correlata alla crescita di lungo termine. E poi si parla anche non soltanto di pubblica istruzione, ma anche di ricerca. Ah, una cosa, quando parlo di pubblica istruzione, bisogna guardare tutti gli aspetti della pubblica istruzione, a partire dagli asini nido, dove siamo particolarmente deboli a finire all'università. Siamo agli ultimi posti in Europa sia per disponibilità di asini nido che per spesa universitaria pro capita. Quindi dobbiamo chiaramente fare meglio. Queste sono le aree su cui investire per crescere di più. Il libro parla molto di una rifondazione della società italiana basata su tre principi fondamentali. Uno è quello che io chiamo l'uguaglianza delle possibilità, che è in fondo l'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti devono avere una possibilità nella vita, indipendentemente dal fatto che siano nati da una famiglia ricca, da una famiglia povera, da una famiglia in cui i genitori hanno studiato o no, da una famiglia del nord, del centro, del sud, indipendentemente dal fatto che sei maschio o femmine e così via. Questa è un'uguaglianza di possibilità. Una volta che si è stabilita questa uguaglianza di possibilità con le appropriate politiche, di cui la pubblica istruzione è fondamentale e anche la sanità, poi si può anche lasciare operare un secondo principio che è quello del merito, la meritocrazia. Tanto deprecata meritocrazia, ma tanto qui in Italia non ce l'abbiamo, quindi tanto vale lamentarci della meritocrazia, tanto non ce l'abbiamo. Ora, la meritocrazia vuol dire premiare sulla base dei meriti. A questo punto noi diciamo, ma cosa succede se i premi sono troppo squilibrati? Noi non vogliamo avere una gara in cui tutto va ai primi e nulla va agli ultimi, anche perché logicamente tra i primi ci sono più fortunati che tra gli ultimi. Cioè chi arriva primo in media non è soltanto più bravo, ma è anche stato più fortunato nella vita. Chi arriva ultimo in media sarà stato anche più sfortunato. Questo lascia spazio per un terzo principio che è quello della solidarietà, una ridistribuzione, fino a un certo punto ovviamente, senza arrivare a quella che secondo me rimane un'utopia, cioè una uguaglianza nei risultati finali, diamo a tutti sulla base dei propri bisogni e ognuno dà sulla base delle proprie capacità. Questa è un'utopia secondo me, però una ridistribuzione adeguata è necessaria proprio per compensare, e questa non è l'unica motivazione, ma forse quella più intuitiva, il fatto che chi arriva primo è anche più fortunato. E il motivo è che ricordiamoci che, insomma, non dobbiamo farci perdere dalla tracotanza. Ecco, chi arriva primo, ricordare, è stato comunque più fortunato, è nato con certi geni particolarmente buoni, anche quella è una fortuna. Quindi non dobbiamo dimenticarci di quello che diceva Guccini, che alla fine tutti quanti avremo due metri di terreno, ecco, per buttarlo in un modo, per scherzare naturalmente. Grazie.